mi state rispondendo i tanti ti odiano perché dici la verità bene è vero io dico sempre la verità e non mi piace tanto fare l'opinionista sapete cosa mi piace di più mi piacerebbe di più fare l'istigatrice perché questo è un modo adrenalinico di sfatare queste grandissime facce da streghe quanto vi rode da 1 a 10 buon arancio allora nipotini vi siete iscritti a questo canale perché questa è una delle rare apparizioni di samira di solito si vede veramente poco 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 però quando appare appare cioè voglio dire in bestia rabbeggiante oggi sta benissimo questa ragazza di una bellezza impressionante peccato che appunto si risparmi molto sui social e siamo tutti con greta rossetti ecco la mamma ciao ciao